Etinerario Quaresimale 40 giorni in preparazione alla Pasqua Giorno 18 troviamo tutto nel Signore Tutto troveremo nel Signore, anche in mezzo alle più grande tenebre, anche nelle tenebre più fite che possano avvolgere la nostra vita. Nostro Padre è ancora presente. Forse in quel momento non riusciamo a sentirlo, ma Lui è lì. Dobbiamo semplicemente aggrapparci a questa certezza con un atto di fede totale. Nella teologia mistica si parla di notte dei sensi e notte dello spirito. Si tratta di processi di purificazione che l'anima attraversa, in cui non sente più Dio come prima. Tuttavia, Dio non ha mai abbandonato l'anima. Al contrario, essa trova nel Padre il suo sostegno ultimo, anche se non può percepirlo. Ed è proprio di questo che ha bisogno affinché il suo incontro con il Signore diventi più profondo. Potremmo dire che nel profondo del suo essere, l'anima ha la certezza chi è Dio che la sostiene e nel quale trova tutto, anche in mezzo alle tenebre più fitte. Il nostro Padre vuole che troviamo tutto in Lui, ed è lì che ci conduce. L'inganno del serpente del Paradiso, che ha dato all'uomo l'impressione che Dio non gli avrebbe concesso qualcosa di desiderabile per Lui, deve essere completamente smentito in noi. Dio era, è e rimarrà amore per sempre. Questa verità vuole penetrare in noi e in essa troviamo tutto. Non dobbiamo più cercare di ideare la nostra felicità e la nostra autorealizzazione. In Dio troviamo tutto. Se ci affediamo alla Sua guida amorevole, la vita che raggiungerà la Sua pienezza in cielo inizia già qui, nella nostra vita terrena. Dio sa cosa è bene per noi. Ci ha dato la libertà di decidere. Se ci decidiamo per Lui in ogni cosa, allora capiamo cosa è la vera libertà. corrispondere al Suo amore e vivere come Suoi figli. Da lì segue tutto il resto.